Benvenuti a un nuovo test di grammatica italiana avanzata. Siete pronti a mettere alla prova il vostro italiano? Voi avrete 10 secondi di tempo per rispondere a ogni domanda e finito il tempo vi dirò qual è la risposta giusta e perché. Prendete carta e penna e iniziamo! Se maggiori dettagli, il rapporto avrebbe offerto una visione più completa. A. Includiamo B. Avessimo incluso C. Includeremo D. Includessimo La risposta corretta è la B. Avessimo incluso Il congiuntivo trapassato è usato per esprimere un'azione che, se fosse stata realizzata, avrebbe migliorato il risultato. Dopo aver la situazione, è stata presa una decisione informata. La risposta corretta è la C. Valutato Il gerundio passato qui è utilizzato per descrivere un'azione che precede e condiziona un'azione successiva. Nonostante ostacoli burocratici, il progetto è stato completato in tempo. A. Abbia affrontato B. Affrontassero C. Avrei affrontato D. Ha affrontato C. Avrei affrontato La risposta corretta è la A. Abbia affrontato In questa frase, il congiuntivo presente è usato per descrivere sfide superate nel corso di un progetto. C. L'importanza di questa scoperta avremmo investito maggiormente in ricerca A. Riconoscessimo B. Riconosciamo C. Avessimo riconosciuto D. Riconosceremo La risposta corretta è la C. Avessimo riconosciuto Il congiuntivo trapassato è usato per esprimere un rimpianto per un'azione non realizzata nel passato. Il convegno Nuovi approcci nel campo dell'intelligenza artificiale A. Ha introdotto B. È introdotto C. Introduca D. Introdussi La risposta corretta è la A. Ha introdotto Il passato prossimo è adatto per descrivere l'introduzione di idee o concetti recenti. Dopo che l'accordo Stato firmato Sono emerse nuove opportunità commerciali A. Era B. Sarà C. Fosse D. E La risposta giusta è la D. E Il passato prossimo indica che l'azione di firma ha aperto nuove possibilità. C. Un approccio più diretto avremmo ottenuto risultati migliori A. Adottiamo B. Avessimo adottato C. Avremmo adottato D. Adotteremo La risposta giusta è la B. Avessimo adottato Il congiuntivo trapassato qui è usato per ipotizzare un'azione non realizzata che avrebbe potuto portare a risultati migliori. Il documento, da specialisti del settore, ha fornito nuove prospettive. A. Esaminerà B. Esaminando C. Esaminato D. Esamina La risposta giusta è la C. Esaminato Il participio passato o usato come aggettivo indica un'azione passata che ha influenzato gli eventi. Dopo la pubblicazione dello studio, le sue teorie è ampiamente dibattute. A. Sono state B. Fossero state C. Era state D. Saranno state La risposta corretta è la A. Sono state Qui, il passato prossimo indica che le discussioni si sono svolte a seguito della pubblicazione. I risultati hanno stimolato ulteriori ricerche nel campo. A. Emergeranno B. Emersi C. Emergono D. Emergendo La risposta giusta è la B. Emersi Il participio passato è usato come aggettivo e descrive un'azione passata che ha ispirato nuovi studi. Quindi, se il progetto stato condotto diversamente avrebbe portato a risultati differenti. A. Sarà B. Fosse C. Era D. E La risposta corretta è la B. Fosse Il congiuntivo trapassato è usato per esprimere un'azione non realizzata che avrebbe potuto cambiare il risultato. L'innovazione, per il suo impatto sul mercato, ha trasformato l'industria. A. Lodando B. Loderà C. Lodata D. Loda La risposta corretta è la C. Lodata Il participio passato è usato come aggettivo e descrive una qualità che ha contribuito al successo dell'innovazione. Non appena... i test è stata avviata la produzione. A. Saranno completati B. Erano stati completati C. Fossero stati completati D. Sono stati completati La risposta corretta è la D. Sono stati completati Il passato prossimo indica che la conclusione dei test ha permesso l'inizio della produzione. Se... un'analisi più approfondita, avremmo identificato le tendenze del mercato. A. Effettuassimo B. Effettuiamo C. Effettueremo D. Avessimo effettuato La risposta corretta è la D. Avessimo effettuato Il congiuntivo trapassato è usato per esprimere un'azione non realizzata che avrebbe portato a una maggiore comprensione. Dopo che la proposta accolta, sono state attuate nuove politiche. A. Fosse stata B. Sarebbe stata C. Sarà stata D. È stata La risposta corretta è la D. È stata D. Qui il passato prossimo indica che l'adozione della proposta ha portato all'attuazione di nuove misure. Fine delle domande! Com'è andata? Quanti punti hai fatto? Fammelo sapere in un commento qua sotto! E se vuoi fare altri esercizi di italiano, clicca qui! Ne troverai tantissimi! Noi ci vediamo nel prossimo video! Buon italiano a tutti!